Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta, ognuno fa il culo. Salve a tutti, sono Andrea Zroppi, candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni comunali di San Polo-Denza. Vorrei parlarvi di un tema a cui teniamo particolarmente, la salute e i servizi socio-assistenziali. Prevenire è meglio che curare, per questo spingeremo molto su campagne informative nelle scuole e in serate pubbliche a tema, tenute da esperti e volontari di associazioni locali, riguardanti la corretta alimentazione e uno stile di vita sano, questo per ridurre il presentarsi di malattie. Inoltre effettueremo un serio controllo per garantire la corretta gestione dell'ASP Carno Sartori, cercando di favorire un miglioramento della qualità dei servizi ed una valorizzazione del patrimonio. Faremo anche un censimento di tutti gli edifici con parti in amianto e promuoveremo la sua rimozione attraverso ditte specializzate. Inoltre valuteremo la possibilità di dare vita ad una ludoteca pomeridiana domenicale per bambini gratuita e per andare incontro alle esigenze dei più piccoli promuoveremo la delimitazione delle aree gioco bimbi e l'installazione di una segnaletica necessaria per la tutela dell'igiene all'interno. Alle prossime elezioni comunali del 26-27 maggio vota il cambiamento, vota il movimento.